Amici della Nuova Ferrara, oggi abbiamo preparato un medaglione di filetto glassato con una salsa di fichi, caffè e fondo bruno. Allora, sembra complesso, in realtà è molto facile, è sufficiente prendere un medaglione di filetto di maiale, avvolgerlo con la rete di maiale e iniziare a scottarlo in padella con un massetto aromatico e un filo appena appena di olio. Sfumiamo con un goccio di vino rosso, andiamo ad aggiungere un pochettino di fondo bruno o se avete del brodo di carne bello intenso, meglio un fondo bruno. Aggiungiamo anche un pochettino di caffè e un fico caramellato, un goccio di acqua per creare una salsa bella emulsionata, lasciamo asciugare la salsa e utilizziamo la salsa filtrata per rilassare il nostro filetto. Buon appetito, alla prossima ricetta. Ciao! Ciao!